e ma dopo se ne faccio uno così e il resto resto manca buongiorno cos'è questa cosa qua bravo abbai agli abbai agli bravissima che cos'è la roba qua lui non mi può ammazzare lui lui mi ammazza se vado a casa sua si un'altra biscia anche te la mia è vera però eh quella è fasulla